Buongiorno, sono Anna Vesco del gruppo Intesa San Paolo, tengo la direzione marketing dell'impresa e della Banca dei Territori e l'ufficio è quello dei prodotti di raccolta e dei sistemi di incasso e pagamento all'interno del quale abbiamo portato avanti il progetto di fatturazione elettronica e conservazione a norma e ci preoccupiamo anche della parte di commercializzazione nei confronti di tutta la nostra rete che è sul territorio, 6.000 filiali presenti sul territorio. Oggi qui allo SMAO di Roma abbiamo presentato la nostra piattaforma prendendo spunto da quelli che sono stati i consigli in indirizzamenti del Servatorio del Politecnico di Milano che da anni porta avanti uno studio e una ricerca proprio sulle esigenze delle aziende in questo settore e soprattutto quali sono i benefici che la fatturazione elettronica può comportare nel caso di adozione. Il nostro servizio di easy fattura che è all'interno del nostro servizio di remote banking che è chiamato e detto Lynx, intesa San Paolo, consente alle aziende di arrivare ad attuare il processo di fatturazione elettronica e di conservazione a norma in modo progressivo e soprattutto molto semplice minimizzando quelli che sono gli impatti al proprio interno sia di carattere tecnologico sia di carattere di processo. Il servizio di easy fattura è una soluzione completamente proprietaria creata dalla nostra banca che permette a qualsiasi tipo di azienda, dalla più piccola alla più strutturata, di esternalizzare completamente il ciclo passivo, il ciclo attivo e la conservazione a norma. Un consiglio alle aziende che mi sentirei di dare e chi è interessato ad approcciare questo nuovo processo all'interno della propria azienda di coinvolgere tutte le strutture aziendali perché i progetti di successo, come diceva anche il Politecnico ancora stamattina nella giornata del laboratorio, hanno un coinvolgimento di tutte le strutture aziendali soprattutto quando si va a toccare il ciclo ordine, consegna, fatturazione, pagamento e conservazione a norma. Dopodiché affidarsi a una surser qualificato che possa accompagnare l'azienda progressivamente in maniera più indolore possibile verso questo cammino, questo percorso di cambiamento e soprattutto poi accompagnarla nella gestione e nella conservazione che come sapete viene dieci anni.